Noi siamo chiamati a dare la buona notizia, una buona notizia, la stessa buona notizia che abbiamo ricevuto noi e che ha permesso allo Spirito di Dio di cambiare la nostra vita e il nostro cuore, in completa semplicità, questa buona notizia e che Cristo ha reso possibile la salvezza per tutti. Questo sentimento parte da una visione che non avremo mai se guardiamo solo a noi stessi, alle nostre piccole cose, se guardiamo solo all'interno delle nostre mura di casa e anche all'interno delle sole mura dei nostri locali di culto. La nostra visione deve essere fuori, fratelli e sorelle, dobbiamo guardare fuori. Non impariamo ad essere indifferenti con la stessa indifferenza che noi siamo trattati nella società e nel mondo. Noi non possiamo avere questa indifferenza nei confronti dei perduti. È una sacra realtà spirituale che Cristo ha messo nei nostri cuori, se davvero siamo stati salvati. Andate, dirà Gesù. Andate, non dove vi pare, non dove vi sentite, non fin dove potete arrivare. Andate per tutto il mondo. Il Vangelo, quando è predicato, è potenza di Dio e cambia le persone, gli individui, i cuori. Cambia la vita e lo fa da subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.